buona e santa serata a tutti eccoci qui un abbraccio a tutti sempre con tanto affetto e con tanta stima vi voglio bene e so che voi ne volete a me perché lo dimostrate in tantissimi modi e siete presenti in tanti modi nella mia vita allora prima di augurarci una buona notte e un riposo sereno e tranquillo per chi va a dormire meditiamo qualche istante su questi versi del salmo che la liturgia ci ha proposto oggi o signore signore nostro quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra che cos'è mai l'uomo perché di lui ti ricordi il figlio dell'uomo perché te ne curi davvero lo hai fatto poco meno di un dio di gloria e di onore lo hai coronato quanto è importante l'uomo quanto siamo importanti noi agli occhi del nostro signore gesù cristo coraggio alzate il capo invocate il suo aiuto e la sua misericordia e ora accogliete la benedizione il signore sia con voi vi benedica Dio onnipotente padre e figlio e spirito santo buonanotte a tutti vi voglio bene e a domani A presto! Grazie a tutti.